due cattivoni al prezzo di uno guarda Kim ma cosa devo guardare? niente, dobbiamo solo far finta che stiamo puntando un razzo così per impaurire un po' le pecore ora ci dobbiamo fare una foto dove sembriamo veramente cattivi cerca di fare la faccia più cattiva che puoi, Kim vai ora ci fanno una foto qua con questo lancia razzi nel background ma che te sei maniato Kim? sei un po' pesante? allarga le gambe Kim fai la posa da supereroe vai così le pecore si stanno cagando sotto ora facciamo finta che gli lanciamo questo fuoco d'artificio questo razzo e si cagano sotto guarda, ti guarda tutte le mascherate si stanno a cagare sotto facciamo vedere un'esplosione cominciano tutti a chiamare il telefono aiuto, aiuto, aiuto aiuto hai visto Kim? li abbiamo spaventati funziona sempre ah mi stai chiedendo cosa fa questo ragazzo che c'è sempre a fianco che sembra che disegna le cose qua niente, lui è un appassionale di cazze lui disegna cazze là sempre e ce l'ho sempre a fianco perché mi diverte a guardare i suoi cazze aspetta un attimo Putin, devo andare un attimo ma che ho mangiato pesante ieri no andiamoci tutti insieme al bagno ragazzi hai visto? gli abbiamo spaventato le pecore non mi hanno detto sono stupido eh guarda Kim aspetta adesso ti facciamo una foto con le mie pecore tutte fiere dietro guarda come sono fiere guarda come un mento alzato si prendono il sole guarda guarda aspetta adesso dobbiamo farne una anche per i complottisti questa posa un po' massonica ora ne facciamo una da mafioso Kim fai la tua faccia da cattiva da mafioso vai ora ne facciamo una col dito che punti più così né niente né nulla ma non ridete ragazzi zitti non ce la faccio minchia ne la faccio più ho mangiato pesante ieri no no basta da oggi metta a diciamo aspetta che me ne sgancio uno magari funziona molto meglio ma che si è sentito? Kim ma tu l'hai visto chi è Bill? senti Kim andiamo al centro commerciale qua che non puoi andare in giro con sti pantaloni che cazzo ma che cos'è cosa c'è che non va con i miei pantaloni scusa ma come cosa c'è che non va Kim ma dove vai in giro così? dici che non vanno bene aspetta che ho un paio migliore l'ho lasciato in albergo aspetta arrivo subito aspetta aspetta